E' ancora avvolta nel mistero la morte di Victorine Bucci, la donna che fece perdere le sue tracce lo scorso 18 dicembre a Termoli. Dopo quella notte più nessuna notizia di Victorine, ad oggi dopo il ritrovamento nelle ultime ore della sua Fiat Panda Rossa rinvenuta nelle acque del porto di Termoli dei carabinieri sommozzatori e del corpo di una donna di cui la procura di Larino ne ha confermato l'identificazione in queste ore, intanto spuntano nuovi interrogativi. Secondo alcuni pare che la 42enne fosse stata avvistata in mattinata al porto verso le 10, tuttavia adesso spunta un nuovo filmato che riprende l'auto mentre prosegue a velocità sostenuta verso il molo, posto dove la macchina non sarebbe più uscita, verso le 5 e le 6 del mattino perlomeno, questo è quanto emerso dalle immagini del video di un'azienda. In queste ore è stato ascoltato in procura anche il compagno di Victorine, un uomo di Termoli e il fratello. Cercando di ricostruire la dinamica però le cose sembrano non tornare, come mai l'auto è stata ritrovata soltanto ora quando le ricerche in quella zona erano già state effettuate accuratamente in precedenza? I magistrati della procura di Larino sono impegnati ormai da ore per cercare di dare risposta a tale quesito. Intanto la questione ha tirato l'attenzione di tutti anche sulle reti nazionali e l'ultima puntata televisiva di Chi l'ha visto le ha dedicato una serata intera, serata in cui sono emersi nuovi particolari e nuovi interrogativi per una vicenda ancora non chiara. Si attendono ora i risultati dell'autopsia e dei rilievi effettuati sull'auto, dati che potrebbero portare a risposte più chiare per mettere insieme i pezzi del puzzle di questa storia di cronaca che ha toccato l'intera regione e non solo.